Va bene, è tutto. Allora, ragazzi? Per ora basta. Puoi fare colazione e tenerti il tuo segreto professionale. Ma non allontanarti dalla città, almeno finché non avremo parlato con quest'avvocato. Ehi. Hai letto il tuo oroscopo di oggi? Perché? Non lo sai che giorno è oggi? Oggi è mercoledì. Il giorno in cui può accadere di tutto.